Ciao Stelline e bentornate sul canale! Oggi io e Susan gareggeremo in una sfida di arredamento è la prima volta che facciamo questa perché le altre sfide andavano meglio per i personaggi di New Doll City però abbiamo visto gli episodi in cui decoravano le stanze in base ai lavori dei loro genitori e possiamo farla anche a tema dei nostri quindi io decorerò questa come il lavoro di mia mamma che insegna all'asilo e io ho questa come il lavoro di mio padre che ha un negozio di arredamento comincio io buona fortuna! non mi serve! allora vediamo cerco di ricreare l'asilo in cui insegna questo tutto colorato potrebbe andare bene però questa è molto più bella e divertente meglio pavimento no vabbè ma questo è perfetto perfetto bene mi lascio questo poi metto uno scaffale dove ci sono i giochi oh mio dio top del top lo mettiamo lì poi metto anche un baule questo ok poi dei tavolini dove disegnano dove i bambini disegnano uno di Hello Kitty e uno a stella ecco fatto ora metto delle sedie basse ok mettiamo tutte diverse i bambini piacciono tanto i colori ecco fatto poi mettiamo la tv per guardare i cartoni questa qui va bene poi mettere un appendino per gli zainetti oh no vabbè vediamo se ci sta sì bene è un inizio do una sistemata e poi vi faccio vedere adesso è il turno di Luca ti stupirò mio padre mi ha insegnato ad arredare cerco di ricreare il suo negozio allora lui ha delle lune e dei soli oh questa è troppo perfetta poi pavimento vediamo un pochettino sì questo va bene allora poi vende qualsiasi cosa quindi metto qualche frigo ok li metto qua contro il muro molto vicini così ci sta anche altra roba lì metto un armadio vediamo questo qui poi qualche letto mettiamo questo qua mettiamo magari anche un lettino no vabbè ma mettiamo anche qualcosa per un'altra stanza ecco mettiamo un water vuoto cioè senza acqua mettiamolo blu poi un tavolo vediamo un po' vediamo un po' oh questo è perfetto ecco lì poi qualche sedia infilata lì sotto il tavolo metto metto questa sedia metto magari anche uno sgabello ok do una sistemata e poi vi faccio vedere ok andiamo a vedere prima quella di Susan resterai a bocca aperta sì certo tada oh quanta roba guarda qui ci sono tutti i tavolini dove i bambini possono disegnare un armadio con i giochi qua posano gli zainetti la tele qua c'è un baule per mettere i giochi che casino sei mai entrato in un asilo è così adesso ti faccio vedere la mia illuminazione allora queste tre sono le luci più grandi e poi per i bimbi cioè quelle più queste che sono un po' più divertenti ci sono quelle lì eh sì sì niente male ma vieni a vedere il mio negozio di arredamento oh beh anche qui non è che ci sia un ordine beh la roba deve essere proprio così qua vende qualsiasi cosa per bagni cucine camere da letto e ho tantissime illuminazioni ho le luci appese e poi queste due che sono per le camere da letto eh la stanza migliore del mondo sì sì devo ammettere che non è male ma resta comunque meglio la mia stelle le dovete votare scrivete team luca per il mio negozio di arredamento o team susan per il mio asilo e non dimenticatevi di iscrivervi lasciare like e condividere il video dai che se arriviamo a 50 iscritti la camera girl farà una live ciao 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 ciao